Il Parco San Bartolo ha un progetto che porta avanti da diversi anni, in che cosa consiste e perché soprattutto esiste questo progetto? Il progetto dei caprioli è iniziato tre anni fa con l'Urca, la sessione provinciale dell'Urca, in cui lo scopo principale è proprio il licenzimento del numero dei caprioli in questo parco e la sensibilizzazione a tutto il pubblico. Andiamo nelle scuole, andiamo in tutte le circostrizioni, in luoghi pubblici per avvicinare la gente a questa bellissima specie che è il capriolo. Con il primo scensimento che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo raggiunto delle cifre che non pensavamo che ci fossero così tanti caprioli nel parco, siamo arrivati a una stima di 105-180 caprioli in tutto il territorio del parco. Questo mese c'è un'iniziativa proprio mirata a questo, che parte da qui, da una scuola come questa di Pesaro per sensibilizzare i ragazzi. Sì, il 17-18 di marzo faremo il secondo censimento dei caprioli del San Bartolo. Oggi è il primo momento di formazione in cui sono stati coinvolti gli studenti dell'Istituto Cecchi perché da sempre ci danno una mano in questo lavoro che facciamo insieme alla gente. E appunto il 17-18 andremo a contarli facendo un'uscita all'alba e una al tramonto per ognuna delle due giornate. Il secondo momento di formazione sarà martedì prossimo, 13, quando nella sede del parco faremo un incontro per tutta la gente al di fuori delle scuole che volesse partecipare alla nostra iniziativa. Questo periodo dell'anno è il periodo di massima visibilità del capriolo, il periodo in cui il capriolo si fa vedere più facilmente ad alimentarsi sul primo verde, cioè sulla prima erba che rinasce in primavera e quindi questa tecnica che noi applichiamo che consiste nell'osservazione dei punti di uscita del capriolo diventa favorevole proprio perché il capriolo si sposta a mangiare con più facilità attirato da questa prima erba che esce.